Buongiorno, l'arrivo del Consiglio del Consiglio a Milano, il nostro regolamento. Buon lavoro, buon lavoro. Dobbiamo consentire di stare qui il sabato, sono mortificato. Riusciamo a modificare, inserire una piccola modifica, correggere, migliorare il rumore. Nel giro di pochi giorni noi possiamo fare due o tre. Aspetta, la faccio io. Grazie a tutti.